sono molto contento è anche stato un viaggio molto difficile perché sono andato dalla francia fino a a roma e poi il match l'ho trovato molto facile perché l'altro faceva molti errori trovo bizzarro perché la prima volta che ci giochi devo anche dire i punti in italiano e sono e dico in francese normalmente perché mio fratello giocava a tennis e volevo battere e ho cominciato il tennis e il mio obiettivo era di battere e quando l'ho raggiunto ero molto contento e come mi piaceva anche il tennis ho voluto continuare di vincere il tonnello i colpi incrociato corto incrociato corto e poi il lungo linee sul rovescio profondo federer perché lo trovo che fa fa come dei servizi voler in più fa delle cose fantastiche